E' un'altra parte. un po' più attenzio wow, bellissimo, proprio agitato se vuoi delle iniezioni, ce le do io no? si vede come me le carte sono quelli che potrebbero essere qui e non lo sbuncono dell'autostrada non lo comprenderei se avessero bloccato altri turisti era una miniera mi ha detto ci qualcosa da recuperare l'intraspezione ma non c'è niente proteggiamo wow do un'occhiata qui intorno scendi il controllo cazzo se mi porto un sacco di me e non c'è niente 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 di un sacco di me ti riduca in tenere Vieni a me. Quel ponte sembra molto lontano. Ci arriveremo. Strano vedere un tipo di ponte. Una tipica zona di quarantena. Questo posto è abbandonato da un bel ponte. Sì, credo. Non fa silenzio mentre attraversiamo questa zona. Sì, credo. Sì, credo. un'altra parte Oh, cazzo! Oh, cazzo! Oh, cazzo! Oh, cazzo! Oh, cazzo! Oh merda! Sì. guardami le spalle ha una pistola guardami le spalle guardami le spalle Grazie. 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 Porca vacca, Joel. Grazie. 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 Vediamo dove porta. Grazie. 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 Ok. Non penso a cercare la vista. Ecco il vostro punto. Se mi ha fatto vicino. Penso. Non vediamo. Perci forza. Non posso saltare così. Non posso saltare così. e quindi mi ha fatto proprio il caso. Non posso saltare così. Non posso saltare così. Non posso saltare così. La sua sp è una risulla. Non posso saltare così. Non posso saltare così. Ehi, c'è un'altra di quelle cose tipo zackera Possiamo usarla? Aspetta qui Aspetta qui Aspetta qui Aspetta qui Aspetta qui Aspetta qui Sì, sì. Molto spesso. E cosa prendevi? Beh, solo caffè. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 Grazie a tutti. 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 Come on. Grazie a tutti. Grazie a tutti. È tutto a posto. È tutto a posto, amico. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Vediamo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Uno è lì. Salgo io da te. Guardate. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.